Amici di Tele1 ci troviamo quest'oggi presso la sede della Conf Consumatori di Corigliano Rossano, sede ubicata in via Walt Disney nell'area urbana di Corigliano e siamo ospiti e lo ringraziamo per averci accolto proprio il responsabile cittadino della Conf Consumatori Domenico Varcaro. Domenico è un vilo diretto tra i cittadini e le istituzioni del quale appunto le cui iniziative noi diamo conto anche attraverso appunto la nostra emittente perché rappresenta per l'appunto una voce su quelli che sono i disagi ma anche i servizi erogati alla cittadinanza, all'utenza. Domenico sappiamo che è cambiato il metodo di discussione, è un argomento che sta al cuore direttamente ai cittadini, se ci può spiegare in che cosa consiste questa modifica? La manovra economica del 2020 sostanzialmente ha cambiato quella che è la forma di riscossione dei tributi comunali, sostanzialmente ha abbattuto quelli che sono i tempi per la riscossione. Gli accertamenti diventano subito esecutivi e purtroppo il consumatore ha solo ed esclusivamente 60 giorni per fare un'eventuale opposizione, quindi si riducono di molto i tempi per eventualmente verificare se l'atto è dovuto o meno. Questo è un qualcosa che comunque va a danno del consumatore perché mentre prima bisognava aspettare almeno altri due atti successivi all'accertamento, adesso questo purtroppo non può avvenire più. Quindi è un accertamento direttamente esecutivo. Da un ambito legislativo nazionale a un ambito locale. L'ultima volta noi ci siamo lasciati proprio dando voce a quella che era una sua denuncia dai toni pacati ma fermi, afferente proprio alcuni disagi, alcune problematiche che interessavano la riscossione e i cittadini, in particolar modo quelli residenti nell'area urbana di Corigliano. Cosa è cambiato da allora ad oggi? Niente, proprio a seguito di questa manovra economica abbiamo visto che i comuni comunque si sono adattati a questa semplificazione. Da parte del Comune di Corigliano, Rossano, abbiamo visto che comunque l'ente comunale è stato molto celere nel rispondere al contribuente. Anche nel caso in cui magari si è semplicemente inviata un'istanza di rateazione, abbiamo visto che il Comune comunque ha accettato senza nessun problema queste istanze. Cosa contraria invece per quanto riguarda il discorso riscossione coattiva e in questo caso la municipia purtroppo non è molto celere nell'evadere le pratiche, quindi le varie istanze che vengono inviate. Questo purtroppo va a danno del consumatore perché se nei 60 giorni che dicevamo prima l'ente di discussione non dà nessuna risposta, il consumatore purtroppo è obbligato ad andare in causa, quindi presso in questo caso la sede della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza. Grazie a Domenico Varcaro, naturalmente con l'auspicio ci salutiamo che queste problematiche che ancora persistono possano divenire ad una celere ed efficace soluzione. Torneremo naturalmente nuovamente a disturbarla perché è un piacere ascoltare informazioni utili. Grazie a Domenico Varcaro, ricordiamo responsabile della Conf Consumatore di Corigliano Rossano e grazie a tutti voi.